Domani saranno passati esattamente 49 giorni da quella partita e pensare di ripartire nello stesso modo è un po' utopistico, però noi in questi 50 giorni quasi non siamo stati con le mani in mano e abbiamo cercato anche di migliorare quelli che possono essere i nostri limiti giornalmente con il lavoro quotidiano grazie a un entusiasmo che vedono in questi ragazzi che giornalmente arrivano a campo con l'idea di migliorarsi. La Versa ha dimostrato già domenica scorsa di fare una grande partita contro il Nardò che a sua volta aveva giocato in maniera importante contro il Casarano, dimostrando tutto il suo valore sia l'una che l'altra. Per noi è una partita importante perché segna un nuovo inizio, tutte le partite che giochiamo cerchiamo di portarle a casa con l'intento di vincere la partita, però è chiaro che ci sono gli avversari e quindi dobbiamo dare grande rispetto agli avversari. Per quanto riguarda i punti, la classifica, oggi dopo quattro partite, noi, le altre sono a sei, c'è poco da dire di vedere la classifica, di guardare i punti, un punto in più, un punto in meno oggi non cambia le cose.